clemente di nozzo prefetto su eccellenza buongiorno buongiorno fiammetta è un piacere averla qui ai nostri microfoni delta radio insomma la prima volta in radio per lei qui a rovigo sì e allora sarà un onore parlare con lei fra qualche istante insomma continuate ad ascoltarci ed eccoci rientrati in studio delta radio vi accompagna non solo con dell'ottima musica ma anche con delle splendide interviste siamo proprio oggi in compagnia del prefetto su eccellenza clemente di nuzzo prefetto di rovigo che ci permette di inaugurare la nuova trasmissione eccellenti storie che lasciano un segno prefetto la sua storia sicuramente ha segnato il veneto poiché di fatto diciamolo lei è stato cinque anni a belluno ed è stata la sua prima esperienza all'interno di questo mondo ma credo che la mia storia non abbia segnato il veneto semmai il veneto che ha segnato l'abbiamo tenuta a battesimo perché veramente quando nel 91 sono arrivato a belluno provenendo da napoli senza aver mai conosciuto la vera montagna è stata veramente un'esperienza interessantissima ma anche di forte impatto e mi sono trovato molto bene sono stati cinque anni formativi non solo dal punto di vista professionale ma anche umano perché ho stretto delle amicizie che sono che sono ancora vive oggi in parte l'ho visto da solo gli ultimi due anni dei cinque anni è venuta anche mia moglie mi ha raggiunto dopo che c'eravamo sposati e quindi è un luogo che mi è rimasto nel cuore e poi ho lasciato il veneto insomma ho fatto esperienza in altri siti e prima sede da prefetto è stata a Rovigo quindi è stato un bellissimo ritorno in veneto insomma raccontiamo un po intanto la prima domanda è questa che cosa fa un prefetto perché è vero che è il massimo rappresentante dello stato sul territorio però poi a livello fattivo no noi la vediamo impegnata tantissimo sì innanzitutto dividiamo in tre branche fondamentali quello che fa un prefetto innanzitutto come hai detto tu è il rappresentante del governo dello stato sul territorio poi è autorità provinciale di pubblica sicurezza autorità provinciale di protezione civile sono tre branche fondamentali ma poi se abbiamo il modo vi dirò che facciamo tante altre cose comunque il prefetto ecco deve occuparsi di tenere un sempre proficuo raccordo tra tutte le componenti che assicurano il governo del territorio quindi c'è la parte di governo appunto afferente allo stato ma c'è quella afferente alla regione afferente agli enti locali e quindi il suo compito principale è far lavorare tutti insieme le diverse componenti del sistema territorio in modo da raggiungere degli obiettivi di sviluppo di miglioramento della situazione di garanzia del rispetto dei diritti e del delle prestazioni sociali quindi tutti gli ambiti in cui vi è un risvolto diciamo di carattere sociale sono gli ambiti in cui il prefetto può entrare ovviamente non entriamo sempre entriamo dove ci sono dei problemi dove ci sono il problema affrontare problemi che ci pongono i sindaci il presidente della provincia ma anche la società civile abbiamo un rapporto molto stretto con le associazioni di categoria anche con le con le organizzazioni con le associazioni di cittadini laddove ci viene rappresentato un problema che diciamo richiede il concorso di più soggetti di più soggetti istituzionali ecco noi cerchiamo di preparare il terreno insomma di di creare le migliori condizioni un compito arduo insomma non è facile e questa è una parte poi c'è l'altra parte il coordinamento delle forze di polizia che è un diciamo il lavoro che contraddistingue in modo forte appunto la prefettura e quindi in stretto raccordo appunto con i vertici provinciali delle forze di polizia il questore quando la terrenciale carabinetta quando la guardia di finanza il le 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 polizie locali i vigili del fuoco insomma tutto ciò che attiene alla sicurezza ecco viene in qualche modo coordinato alla prefettura c'è un lavoro h24 il prefetto non va mai in vacanza non fa mai sabato e domenica il prefetto ha un'adeguata collaborazione dai suoi dal vice prefetto vicario al capo di gabinetto dai suoi dirigenti quindi è sempre una squadra certo perfetto fa un po da direttore d'orchestra poi ripeto la terza branca è la protezione civile autorità provinciale di protezione civile quindi significa significa presiedere anche al coordinamento di tutti i soggetti che si devono occupare appunto delle della gestione delle emergenze e qui l'abbiamo vista molto molto in azione facciamo anche una cosa molto importante che facciamo è sicuramente anche la la predisposizione di tutte le consultazioni elettorali è certo certo poi ci occupiamo di sanzioni amministrative ed un'altra ed un'altra questione molto rilevante di rilevo sociale molto importante è la gestione sul territorio del fenomeno migratorio noi siamo siamo abbiamo il compito di assicurare assicurare mito alloggio ma anche altri servizi ai migranti richiedenti asilo che vengono destinati sul nostro territorio la cosiddetta accoglienza l'accoglienza l'accoglienza ed è un tema che spesso insomma presenta delle criticità perché ecco ci sono dei momenti in cui c'è un grande afflusso di richiedenti asilo e i posti si riducono quindi dobbiamo cercare di trovare anche nuove sistemazioni sempre ovviamente nel rispetto rigoroso delle regole perché ovviamente ci sono delle regole da rispettare certo ma recentemente proprio visto che parliamo di questo abbiamo avuto anche qui a rovigo degli ospiti che sono arrivati ad esempio dall'ucraina l'ultima è stata un'emergenza particolarissima tra l'altro ecco che abbiamo dovuto gestire veramente l'immediato proprio lo scorso anno di questi tempi dal 24 febbraio e devo dire c'è stata una grandissima collaborazione immediata di tutti i sindaci tutti i comuni tutte le associazioni anche presenti sul territorio ma anche dei comuni cittadini che accoglievano è stato veramente un momento di risposta corale veramente molto molto rilevante che ha evidenziato anche la il senso di solidarietà insomma di questo territorio esatto facciamo un passetto indietro allora visto che abbiamo spiegato che cosa fa il prefetto sul territorio cerchiamo di capire come si diventa prefetto questa è una vera e propria scalata potremmo definirla beh eh sì eh la carriera prefettizia si accede tramite concorso pubblico direi che eh il concorso per la carriera prefettizia insieme al concorso nella carriera diplomatica e i concorsi nelle diverse magistrature insomma sono i tre concorsi di eccellenza insomma della 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 pubblica amministrazione italiana la insomma le prove concorsuali sono molto difficili insomma c'è prima una prova selettiva poi ci sono cinque prove scritte e chi riesce a superare insomma questo sbarramento poi vabbè c'è la parola insomma comunque dopodiché eh si frequenta un corso di formazione biennale attualmente biennale eh con lezioni in aula ma anche con esperienze con stage presso le prefetture sì dopodiché si è finalmente nella nella carriera con la qualifica di eh prima di consigliere di prefettura poi di vice prefetto aggiunto poi un momento cruciale della carriera è il passaggio da vice prefetto aggiunto a vice prefetto perché c'è una dice una valutazione comparativa per meriti professionale insomma è una momento arduo e dopodiché poi eh c'è la diciamo c'è la nomina a prefetto che è una nomina eh che avviene da parte del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno certo quindi insomma ma una bella è una cadera difficile è una cadera difficile eh però anche eh veramente molto molto stimolante molto interessante c'è della gratificazione insomma alla fine ogni scatto di carriera se possiamo definire è un bel trampolino di lancia di eccellente la trasmissione non da da oggi ogni giovedì su delta radio è anche quella di raccontare la vita delle persone che sono in studio e saranno in studio con me anche attraverso la musica la selezione musicale viene fatta direttamente dai nostri dj in questo caso da Jimmy però insomma le richieste arrivano direttamente dal nostro prefetto clemente di nuzzo che è qui con noi allora prefetto abbiamo ascoltato bruce prinsting un cantante che definirlo cantante sembra quasi di offensiva riduttivo nei suoi confronti però che veramente ha segnato in un certo senso anche la sua vita è una un grande veramente della musica del rock della storia della musica recente tra l'altro andrò pure a ferrara il 18 maggio sarò a ferrara al concerto al concerto quindi un appuntamento perché io ho un conto aperto perché mi ricordo che quando ero quando ero avevo 18 anni credo ero e sping si fece una tournée in italia e mi ricordo che non riuscì a trovare il biglietto insomma a distanza io non so quanti anni ormai finalmente l'ho beccato diciamo non me lo non me lo perdo ho comprato con un anno di anticipo il biglietto un anno addirittura quando proprio si parla di pianificazione in questo caso ci siamo in pieno non me lo voglio perdere perfetto lei è decisamente appassionato di musica un po di tutti i generi partiamo dalla musica classica di cui è un grande stimatore però nel suo passato c'è anche una parentesi da dj non proprio dj no niente la possibilità insieme a degli altri amici con cui condividevamo gli stessi gusti musicali di fare un partiamo dei primi anni ottanta insomma e di fare un programma in una radio piccola radio parrocchiale insomma però proponiamo della musica completamente diversa dal panorama tipico insomma tutto questo a nola succedeva a nola radio incontro si chiamava e proponiamo la musica e avevamo un bel riscontro da parte degli appassionati di musica un po alternativa insomma ci arrivano delle belle telefonate ma dove l'hai preso questo e quindi è stato un momento così molto piacevole molto piacevole perché sembra strano ma adesso perché voi quando ti fa youtube sì sì all'epoca all'epoca c'erano le radio libere insomma era il periodo del boom delle radio radio libere e però ecco avere la possibilità di proporre insomma della musica ripeto alternativa era pure stimolante e non era facile da trovare perché si raggiungevano dei gusti musicali diversi insomma prefetto lei sono ormai due anni che a rovigo che vive in questa città e che vive il territorio un po tutto tutto il polesine e come la trova questa questa provincia ma è stata una progressiva scoperta sicuramente quando si arriva in polesine non si hanno molte notizie o meglio si hanno i soliti stereotipi della nebbia delle zanzare insomma però ecco si arriva in una terra molto ricca di storia si arriva in una terra caratterizzata dal dal dall'acqua dalla dalla presenza importante di due fiumi di un delta bellissimo e quindi la mesopotamia d'italia la potremmo definire questa lingua di terra che va dalla lombardia fino al mare insomma attraversa è un territorio ripeto pianeggiante ma ma molto bello è una zona in cui scopri poi che ci sono realtà industriali di altissimo livello sono industrie che producono appunto delle dei prodotti esclusivi per il mercato dell'auto per il mercato addirittura per l'aerospaziale esatto esportano in tutto il mondo e quindi è una terra tutta tutta da scoprire che si sta prendo verso il discorso della logistica con delle presenze molto importanti anche con una con una zona logistica semplificata ecco che dovrà essere adesso implementata insomma in un porto di collaborazione tra la regione e lo stato quindi una realtà una realtà stimolante forse si racconta poco forse come si racconta poco ed è una terra che probabilmente ha una gran voglia anche e soprattutto per la città di rovigo ecco sento che ha una gran voglia di ripartire dopo magari una fase un po' di stasi in cui sono venute meno determinati presidi territoriali uffici caserme banche c'è c'è spazio per per poter per poter avere una una ripresa ecco tutto il sistema territorio deve agevolare deve deve creare le migliori condizioni per per questa questa per una nuova fase di sviluppo è un certo senso magari anche prendere consapevolezza di essere in una location strategica cioè veramente non dobbiamo riuscire a dare l'alta velocità ferroviaria di veramente delle grandissime opportunità non dobbiamo dimenticare per rovigo passano nodi autostradali importantissimi che vanno verso i balcani verso l'austria verso la lombardia zone altissimo sviluppo insomma e quindi bisogna fare molto 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 di più anche a livello magari locale la società stessa deve riprendere un po' di coraggio a rendersi conto che può fare tanto ci sono tutte le migliori condizioni vediamo che una delle degli esempi di questa rinascita se così possiamo richiamare questo nuovo rinascimento polesano sono anche le grandi mostre che avevano per questo questo fatto bene a dividenziarlo perché credo che la cultura può essere un volano importantissimo a questa città si ne ha bisogno la cultura se ecco se diventa un punto di richiamo per flussi turistici può favorire l'intero territorio possiamo portare chi viene a visitare la mostra di Renoir a conoscere le altre bellissime realtà di rovigo ma anche della provincia del delta un posto meraviglioso ci sono ci sono tante tante opportunità di gruppo turistico in questa provincia c'è una zona che le piace particolarmente della provincia di rovigo senza ovviamente dire che le altre non sono all'altezza però ce n'è una che l'ha colpita ma sicuramente sono dei località molto belle come frattapolesine come badia polesine l'endinara che hanno dei centri storici bellissimi frattapolesine ha delle ville stupende compresa la la casa museo matteotti che assolutamente da visitare e poi c'è il delta sicuramente ma non trascurerei altre altre zone anche intermedie e anche l'alto polesine col museo della giostra altra eccellenza il distretto della giostra un'altra di quelle realtà economiche importantissime sì sì quindi insomma una serie di cose che effettivamente vanno e poi questa musica che che permea un po' tutto il polesine la città di rovigo con due conservatori né l'esempio lampante no anche su quello bisogna puntare ci sono delle altre città d'italia in cui il conservatorio è veramente il cuore costante della città si può lavorare molto anche in questo secondo me sia ad area che a rovigo per rendere ancora più forte la presenza e sottolineare anche il come direttrice di sviluppo interessantissima il polo universitario gli investimenti che si stanno facendo il polo universitario stanno portando tanti studenti a rovigo una città in cui magari possono trovare anche delle condizioni di accoglienza migliori magari degli affitti più bassi e così via sì magari corsi che altre facoltà in altre università non c'è questo corso il nato proprio lo scorso anno sul management del rischio idraulico che è un corso di livello veramente internazionale certo e ce l'abbiamo qui qui a casa quindi dobbiamo dobbiamo dirle queste cose sono d'accordo ed è un altro omaggio al signor prefetto che ci accompagna ai microfoni di delta radio una trasmissione eccellenti perché appunto la nostra musica e la sua musica e la vita di una persona viene raccontata anche attraverso le note di questi meravigliosi gruppi vero 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 la musica certe volte una specie di scrigno quando tu senti una canzone specialmente una canzone passata come se lo aprissi e ci trovi dentro fotografie quindi immagini ci trovi dentro anche dei profumi ci trovi delle sensazioni è bellissimo mi piace molto di ascoltare appunto musiche come quella di prima perché veramente ti ti aprono un ricordo ma su sensazioni specifiche su un profumo su una su un anche su un'emozione che hai visto in un certo questa sono d'accordo allora teniamo ancora chiuso per qualche minuto questo scrigno perché adesso ambito juliette romio un'altra canzone che sicuramente ricorda qualcosa a me al signor prefetto clemente di nuzzo ma anche a tutti gli ascoltatori che in questo momento si sono fatti coccolare no vero proprio da dire come dicevo si si è sempre il discorso dello scrigno che si apre e ti ritornano tanti esatto più che ricordi delle sensazioni delle emozioni sono d'accordissimo prima durante durante il momento di pausa per le news si raccontava appunto di di questa cosa della musica dell'importanza che la musica nella vita delle persone e una domanda appunto che le facevo era se c'è qualcosa che le ricorda il suo figlio michele che tipo di musica anche lui ha iniziato ad ascoltare musica molto precocemente e non la musica dei bambini insomma ecco quella sicuramente l'ha ascoltata ma ecco anche dei gusti sofisticati mi ricordo che da otto nove anni dieci anni sentiva franco battiato vino daniele ruscio dalla lo educato bene da questo punto di vista decisamente sempre rimanendo in tematiche di giovani no vediamo la società giovane del polesine che sicuramente ha bisogno di grande grinta di grandi stimoli fa già tanto perché li abbiamo visti in azione o meglio in ritirata azione durante il covi da queste giovani generazioni che hanno dato dimostrazione di essere meravigliosamente capaci di resistere ad un momento difficile e secondo quello che è la sua esperienza qui in polesine i giovani polesani rodigini di tutte quante le altre cittadine che cosa potrebbero fare di più per far sì che il loro futuro poi che è di fatto nelle loro mani diventi la strada che loro sognano ma sicuramente i giovani hanno tante opportunità rispetto a noi nella nostra generazione hanno tantissime opportunità in più hanno una possibilità illimitata di si informarsi su quello che succede nel mondo tutto sta a saper canalizzare bene i loro interessi e saper prendere le informazioni dalle fonti giuste perché in rete purtroppo c'è tanto ci sono tante fake news ci sono c'è tanta con dire pacottiglia che i giovani non adeguatamente avveduti poi prendono per buono quindi ecco sicuramente si può dare un consiglio è quello di eh di leggere sempre tanto voi avete la possibilità noi dobbiamo andare a abbonare alle riviste e voi avete la possibilità veramente di avere un accesso illimitato a tantissime fonti siate sempre molto attenti a fare una selezione e a cercare poi sempre le fonti quelle istituzionali quelle oppure accademiche dove poter riscontrare quello che che leggete curiosità ma con le orecchie dritte poi i giovani hanno tante capacità insomma ecco eh io vedo che in questo territorio è molto presente il volontariato certo c'è una una grande una grande eh diciamo attenzione da parte della popolazione giovanile per eh per il volontariato nelle diverse forme volontariato di protezione civile volontariato sociale e quant'altro quindi eh coltivare gli interessi importanti al di là del divertimento mh cercare anche ecco di ehm eh di eh indirizzare le proprie attitudini verso delle eh verso gli interessi che possono avere anche un 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 riscontro un risvolto sociale certo a favore degli altri e così via comunque comunque ecco ehm io penso che anche le città le amministrazioni locali possano fare possano fare per dare occasioni ai giovani di incontro ehm attraverso eh ripeto la promozione dell'associazionismo attraverso la promozione delle delle biblioteche delle sale studio certo eh delle delle dove dove possono ecco andare anche a ehm eh ripeto a studiare a ehm ad avere accesso accesso al eh ad internet certo a tutte le informe di informazioni in delle in dei siti pubblici e ecco mh credo che si possa fare tanto oltre ad offrire poi occasione di svago e di divertimento certo un vero e proprio ritorno alle origini subattiato non si entra abbiamo detto dobbiamo aspettare fino quasi alla fine della canzone quindi la lasciamo sfumare intanto questo era un omaggio al figlio del nostro prefetto Michele che probabilmente ci sta ascoltando da Rimini giusto? Sì. Perché voi adesso vivete a Rimini che di fatto è stata un'altra. La famiglia vive a Rimini chiaramente. E lei è costretta a farlo avanti indietro. Io sto qui perché sto a Rovigo. Le manca un po' Rimini durante la settimana? Vabbè insomma Rimini ho vissuto tanto. A Rovigo sto molto bene. Si sta bene. Però l'esperienza a Rimini mi è servita tantissimo. Lei ha viaggiato molto vero? Anche un po' per la carriera fondamentalmente. Per la carriera sì ho girato diverse sedi. Da dove si parte? Da Belluno sono approdato a Rimini nell'anno 96. Hanno in cui tra l'altro un ricordo perché i ricordi rimangono quasi inderebili. Nel 96 il giovane funzionario della prefettura di Rimini viene a Rimini la principessa Diana. E io ero organizzato come dire ero nello staff della prefettura che ha organizzato questa visita. E beh sono quei ricordi che ti rimangono. L'ho vista molto da vicino insomma ecco. Com'era Eteria come la vediamo di solito. Lei venne in occasione delle giornate del centro Pio Manzù che all'epoca era molto importante. Era preseduto da Gorbaciov a Rimini ha fatto tanti incontri molto importanti e venne la principessa Diana. Un discorso e dopo di che ci fu un pranzo di cala al Grand Hotel di Rimini. Insomma è un bel ricordo ed è una figura sicuramente carismatica di cui ti rimane veramente impresso. E tra gli altri incontri perfetto che lei ha fatto durante la sua carriera, durante la sua vita c'è qualcos'altro che le è rimasto impresso? Sicuramente sono incontri quando sono state le visite dei Presidenti della Repubblica. Ovviamente la prefettura è sempre impegnata in organizzare tutto il cerimoniale. A Rimini ecco ci sono state diverse occasioni veramente che mi rimangono alla memoria. A Rimini si fa ogni anno il meeting per l'amicizia dei popoli e lì ci sono delle occasioni veramente talvolta imperdibili. Mi ricordo che è partecipato anche ad un evento in cui erano insieme a Rimini il Ministro degli Esteri israeliano, il Ministro degli Esteri palestinese, alla presenza ovviamente del Ministro degli Esteri italiano, nel 2004 ed è stata un'organizzazione di un evento veramente rilevantissimo. Mi ha portato veramente internazionale. Il lavoro in prefettura all'epoca era un viceprefetto, il lavoro in prefettura insomma ti porta anche a queste occasioni di contatto con autorità anche di livello internazionale. Certo, certo. E parlando invece di passioni, delle sue passioni, quindi abbiamo appunto prima fatto un bellissimo escursus nel mondo della musica, però c'è anche la lettura, ci sono anche i libri, anche i viaggi. Sicuramente la lettura, il cinema. Sì sì, devo dire al passato leggevo molto di più, adesso leggo molto ovviamente i giornali, diciamo saggistica, romanzi un po' di meno, francamente ecco questo è un obiettivo che mi do insomma di riprendere un po' anche la lettura del romanzo della narrativa. Però insomma c'è anche quella ovviamente. Cinema, cinema, tanto cinema, tanto cinema, sicuramente tanto cinema, ma di tutti i geni, tutte le... C'è un film che non ha ancora visto, che è uscito nelle sale, che la sta incuriosendo? Di recente ho visto il film sulla vita di Massimo Troisi, laggiù qualcuno mi ama, che è veramente molto bello e mi ha richiamato anche quello una memoria insomma molto viva. No, diciamo che sono legato ad alcuni film, ecco un film che ricordo sempre con piacere, che quando l'ho visto mi ha dato delle forti emozioni, è stato l'attimo fuggente. Oh mamma mia, certo, certo. Eh, li racconta effettivamente una grande capacità istrionica da una parte, ma anche di coinvolgimento. Sì, sì, veramente. Ecco, all'epoca ci sono dei momenti in cui magari dal cinema ti vengono, da un film, da un libro, ti vengono delle risposte a delle domande che ti stai ponendo. Ecco, quello è stato un film molto importante. Molto vero. I libri di Umberto Eco, per esempio, ecco, ho letto tanto Umberto Eco, insomma, sia la saggistica, sia i suoi romani, Noè, La Rosa, Il Pendolo di Foucault, insomma. E il suo rapporto con i social network, invece, qual è? Ah, io, il mio unico social è Whatsapp. Mi tengo fuori da Facebook, da Instagram. Certo. Ritengo che, ecco, possano essere dei canali, insomma, che, ecco, in cui uno li gestisce in modo, come dire, professionale, ma se devo raccontarmi su Facebook, francamente... Meglio farlo in radio, insomma. Sì, meglio farlo in radio, oppure che non ti sente nessuno. Esatto. Oppure raccontarlo a chi vuoi, insomma, ecco. Chiaro. E quindi, le attività imprenditoriali rodigine. L'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, ce ne sono tante. Ci sono delle eccellenze che fanno tutto in sordina, però fanno dei passi veramente incredibilmente grandi, di caratura mondiale e la prefettura, senza ombra di dubbio, ha un ruolo importante anche nella gestione di alcune situazioni imprenditoriali. In questo caso, però, quando le cose non vanno bene, quindi, diciamo, gli stati di crisi. E qui, purtroppo, ne abbiamo alcune che sono alla ribalta della cronaca anche in questi giorni. In che modo le state gestendo? Beh, infatti, purtroppo, stiamo assistendo ad una situazione di crisi preannunciata, insomma, di una grossa azienda del settore della logistica che sta annunciato la chiusura, con il pericolo che i lavoratori, che centinaia di lavoratori rimangano senza lavoro. Quindi, ci sono stati già degli incontri in sede regionale, e adesso so che c'è stato anche un interessamento nei confronti della prefettura e cercheremo, nel limite possibile, insomma, di trovare le soluzioni che comunque consentano il mantenimento comunque del posto di lavoro. Stiamo lavorando anche su una situazione di crisi che riguardano un'importante struttura della città di Rovigo, una struttura pubblica di assistenza agli anziani, insomma, persone non autosufficienti, e anche lì con il fattivo contributo del comune, della regione, ma anche della ULS, dell'ATER, e di tutto il sistema territorio, direi, anche della provincia, che sta lavorando per trovare una soluzione. Se sono problemi che vengono al vaglio della prefettura, sono problemi complessi, perché poi, voglio dire, non è che la prefettura interviene comunque, dove c'è un problema risolubile attraverso l'impegno, l'impegno, insomma, di un singolo ente. Ecco, noi interveniamo dove c'è la necessità di mettere insieme, di lavorare insieme più ambiti istituzionali. Non c'è il senso dove magari manca l'effettivo dialogo e la possibilità di trovare un accordo di rete. Certo, dove c'è necessità di una mediazione, dove c'è necessità di un'azione di raccordo, dove bisogna costruire un percorso anche attraverso un progressivo avvicinamento delle parti. Ecco, questo è il tipo di lavoro in cui ci troviamo impegnati su alcuni fronti. Le attività che voi avete con i comuni, con la territorialità, è molto, molto reattiva, soprattutto quando si tratta di pianificazione. Sì, ma direi che i sindaci sono i più stretti collaboratori del Prefetto. Ecco, veramente con i sindaci c'è un rapporto veramente molto bello, molto intenso, ci si sente su tante questioni e mettiamo in campo la nostra esperienza per cercare di affrontare questioni per le quali magari i singoli enti hanno bisogno di un supporto. Certo. Credo che sia una forza dell'Italia, del nostro sistema amministrativo, questa collaborazione tra il rappresentante del governo centrale con gli altri ambiti di governo del territorio, cioè l'ambito regionale, provinciale e comunale. è una caratteristica che contraddistingue il nostro sistema territorio e che credo che ha consentito all'Italia di superare anche dei momenti e delle situazioni molto difficili di emergenza. e quindi siamo molto convinti di questo ruolo di ordinamento e di raccordi. In un certo senso, non sono anche un po' nella diplomazia, questa capacità di conciliare. Una diplomazia istituzionale, locale, insomma, ecco, così come esiste la diplomazia a livello internazionale, è molto importante anche questo tipo di... tenere vivo un rapporto costruttivo tra i diversi livelli di governo del territorio. Dobbiamo pensare che il nostro territorio, ci sono, come dire, diversi insiemi che potrebbero essere assimilati a degli ingranaggi che devono girare all'unisono. Il famoso gioco di squadra. Dove c'è bisogno di intervenire perché magari c'è un sassolino che si frappone, ecco, si interviene per rimuovere quel problema che assimiliamo a un sassolino. Parliamo sempre di altri piccoli sassolini, però in questo caso facciamo qualche chilometro ci spostiamo da Rovigo, andiamo in giù, andiamo verso il delta e lì c'è la questione della centrale elettrica. Come si sta risolvendo? Come stiamo andando avanti? Diciamo che, ecco, la provincia di Rovigo ha saputo fare nel tempo le scelte anche molto coraggiosi. Non dimentichiamo che da un lato è stata dismessa una centrale elettrica importantissima. Dall'altro, Rovigo si è dotata all'epoca unica in Italia del ricassificatore. Adesso si parla dell'apertura di altri ricassificatori anche con forme di resistenza. Rovigo è stata fatta una scelta strategica molto importante. ricassificatore di Rovigo. Potremmo dire quasi pioneristica. Pioneristica, assicura un'importante fetta di approvvigionamento energetico per l'Italia. Sì, sulla centrale elettrica lì è un progetto veramente molto complesso. Smontare una centrale elettrica è un'impresa titanica. E anche a livello di bonifica. Ecco, dopo lo smontaggio che adesso è quasi completato tranne la torre, diciamo, la canna fumaria dovrebbe sorgere poi un insediamento turistico che potrebbe rappresentare veramente un volano molto importante per accreditare ulteriormente il delta come meta turistica. Diciamo che infatti forse quello che effettivamente le persone che vengono qui a visitare il territorio lamentano, ma lamentano ovviamente in maniera bonaria, utilizziamo questo termine è la mancanza di strutture ricettive di un certo livello, di un certo impatto e che offrano dei servizi poi all'altezza del posto. Si può lavorare per aumentare il livello qualitativo è chiaro che il delta non potrà mai diventare una Rimini, una Iesolo dovrà mantenere assolutamente come dire dovrà essere geloso di preservare un delicatissimo ecosistema. Però ecco, lavorare sul miglioramento anche qualitativo delle strutture ricettive anche su un'accoglienza di tipo diffuso sfruttando molti immobili anche abbandonati che ci sono nell'area ecco, vorrebbe essere una via di sviluppo molto importante. Un grande volano anche perché non dobbiamo dimenticarci che c'è differenza tra turismo di massa e turismo del posto. Si viene per trovare un tipo di turismo diverso molto vicino alla natura esatto e quindi bisogna incanalarlo e sviluppare questa richiesta di un turismo verde ecco decisamente siamo quasi in chiusura purtroppo mi viene da dire sono state due ore che sono passate in maniera molto veloce molto piacevole quindi prima di ringraziarla le farei una domanda che è proprio quella che di fatto viene fatta un po' a tutti gli ospiti che vengono che vengono in radio da noi se lei non avesse fatto il prefetto nella sua vita che cosa avrebbe voluto fare? Questa è una bella domanda ecco qui voglio ricordare mio padre che mi diceva sempre con molta saggezza di avere sempre un piano B un piano B devo dire sono molto soddisfatto del del tipo di carriera che ho fatto però se non fosse andato in quella lezione ecco mi sarebbe piaciuto probabilmente fare insegnare fare insegnare storia ecco perché credo che l'insegnamento della storia è importantissimo per capire il presente per proiettarsi nel futuro decisamente senza la storia non siamo nulla e quindi la storia ecco i libri di storia i saggi di storia sono una insomma una lettura che lei ha sempre non solo che mi appassiona molto poi io sono laureato in scienze politiche ho studiato veramente con tanto piacere la storia contemporanea le relazioni internazionali storia economica e quindi poi sono materie è una passione che mi è rimasta quando lei con libro storia mi appassiono sempre perché appunto sono delle materie che magari si comprendono quando si diventa un po' più grandi si fa fatica quando si è a scuola ed è un peccato perché senza ombra di dubbio aiuterebbero moltissimo anche i giovani a capire verso dove andare e dove magari non ritornare insomma possiamo definirla una chiusura col botto questa esattamente un'altra canzone del cuore del nostro prefetto che intanto ringrazio tantissimo per essere stato con noi abbiamo fatto un gran taglio del nastro di questa eccellente la nuova trasmissione di Delta Radio quindi grazie davvero per averci anche aperto le porte della sua vita privata grazie a voi è stato veramente un piacere come dire farsi conoscere forse anche se importante insomma per per avere un miglior rapporto con con il territorio in cui si è chiamati ad operare certo grazie mille allora per i puristi potete riascoltarci sempre su Delta Radio domenica quindi saremo in replica tra le 10 e le 12 e chi invece avesse voglia di rivederci anche in video potrà guardare il sito e i social la rovingoindiretta.it polasine24.it sulla pagina facebook di Delta Radio e sulla pagina facebook di Chioggia in diretta e quindi modi per riascoltarci e rivederci ce n'è veramente tantissimi non possiamo scappare da questa cosa decisamente io ringrazio Jimmy che ci ha accompagnato alla regia con queste selezioni musicali che sono perfettamente nelle corde del nostro prefetto quindi grazie grazie ancora signor prefetto Clemente di Nuzzo grazie a tutti voi per averci seguito e noi ci rivediamo e ci riascoltiamo invece in diretta giovedì prossimo alle ore 13 chi ci sarà con me dovete aspettare giovedì prossimo alle 13 per scoprire e Grazie.